Buongiorno a tutti, il prossimo relatore è un musicista Ha fatto la mia stessa università, Unimi, giusto? Adesso hai fondato la tua azienda da gennaio con tre amici E oggi è qui a parlarci di PHP Exploitation Esatto Ecco a voi Andrea Palazzo Grazie Ok, innanzitutto è un piacere essere qua Mi chiamo Andrea e oggi parliamo di Exploitation del core di PHP Quindi per riassumere un attimo e chiarire gli obiettivi di questa presentazione Guarderemo, faremo una carrellata di quelle che sono le vulnerabilità Che durante il corso degli anni sono state trovate Vengono identificate nel core dell'interprete di PHP Per capire che natura hanno, dove si trovano, come si trovano E qual è il loro impatto sulle applicazioni web sviluppate in PHP Due parole su di me Ho lavorato circa tre anni come penetration tester per un'azienda italiana Quindi il mio background è prettamente web Arrivo dalla web security Negli ultimi anni mi sono un po' spostato Ho scoperto il mondo dei binari, del reversing E diciamo che sto un po' cambiando interessi E questo tipo di presentazione mi sembrava un bel ponte Per parlarvi della mia esperienza Di come sto passando da un mondo all'altro Allora, questo è il modo in cui procederà questa presentazione E come prima cosa cercheremo di capire un po' il contesto Quindi dove ci collochiamo Quali sono gli scenari d'attacco concreti Che possono essere legati a questa tipologia di vulnerabilità E qual è la superficie d'attacco dell'interprete di PHP Dopodiché proseguiremo appunto con una carrellata Di quelle che sono le principali classi di vulnerabilità Che affliggono, hanno afflitto e affliggeranno l'interprete di PHP Vedremo se o se non hanno delle particolarità in questo specifico contesto E un po' come trattarle E alla fine discuterò un po' su un case of study Che è una remote memory exfiltration Che abbiamo utilizzato per exploitare SMF Che è una board scritta in PHP E la vulnerabilità è chiaramente patchata da un bel po' E discuteremo un po' il procedimento Il contesto, beh, PHP La maggior parte di voi probabilmente lo conoscerà È un linguaggio per scrivere applicazioni web Fondamentalmente il back-end, la logica delle applicazioni web E questo che possiamo vedere nelle slide Più o meno è il tipico stack di una web application Nel senso che abbiamo solitamente un web server Che riceve le richieste che arrivano E se il web server decide che queste richieste Devono essere gestite dall'interprete di PHP Leggira, spawna il processo di PHP Che recupera le risorse richieste Esegue lo script Crea una risposta HTTP La passa al web server che risponde al client Tipicamente la sicurezza web I penetration test, gli assessment in quest'ambito Si focalizzano sul top di questa pila Sul livello delle web application Quando si fa un assessment della sicurezza di una web application Si cerca praticamente di rompere la logica di questa applicazione Per guadagnare privilegi O per eseguire codice Comunque per generare dei comportamenti inattesi Questa presentazione invece si focalizzerà sul secondo livello Quindi solo sull'interprete di PHP Chiaramente il modello classico di assessment Ha i suoi pro e i suoi contro Rispetto a questa alternativa Diciamo che non è un'alternativa Ma è un complemento più che altro Ovviamente l'auditing delle applicazioni web È più semplice Sia dal punto di vista della lettura del codice Banalmente perché PHP è un linguaggio ad alto livello Tante astrazioni, facile da leggere Non serve particolare a strumentazione per l'ambiente Di debug, di test Essendo inoltre un linguaggio interpretato Si può modificare al volo il codice Printare il valore di una variabile Fare modifiche, eccetera Inoltre c'è anche il fatto Lato ricerca o lato attaccante Che identificare una vulnerabilità in una web application Solitamente permette di sviluppare un exploit Che è reliable al 100% Nel senso che salvo casistiche, limite Come possono essere le race condition Che comunque non sono così diffuse nelle web application Tipicamente non ci sono fattori Che minino l'affidabilità di un exploit Su un'applicazione web Essendo prettamente logico appunto E inoltre lo sviluppo dell'exploit Solitamente non richiede molto effort In termini di sviluppo Trovata la vulnerabilità sul web Diciamo che il grosso più o meno è fatto Come conseguenze appunto abbiamo che Cioè come Scusate come Fattori negativi Abbiamo che le vulnerabilità web Sono legate alla logica dell'applicazione Dipendono dall'applicazione specifica Trovare una vulnerabilità Su una specifica applicazione web Non implica il fatto di poterla replicare Su applicazioni che abbiano una logica diversa Inoltre il livello web È anche il più competitivo Diciamo dal punto di vista della ricerca Sia perché è il più accessibile Sia perché spesso è il più esposto Quindi c'è tanta gente che Che mette effort nella sicurezza Delle applicazioni web E anche c'è da dire Che la maggior parte dei programmi Di rewarding, bug bounty E questo tipo di cose Principalmente espone superficie web Quindi c'è molta concorrenza E il fatto inoltre che Il development degli exploit Non richieda molto effort Toglie parte del divertimento Per chi lo fa per passione Diciamo Quindi perché attaccare Il livello sottostante La motivazione più banale Trovare una vulnerabilità In una funzione PHP Implica probabilmente La possibilità di exploitare Tutte le web application Che usino quella funzione In cui si verifichino Le stesse precondizioni necessarie A triggerare questa vulnerabilità Inoltre può essere utile Anche per post exploitation Nel senso che PHP offre la possibilità Di ardenizzare Delle installazioni Esistono misure specifiche Probabilmente qualcuno Ha sentito parlare Di safe mode O di open-based dir O della possibilità Di disabilitare Funzioni pericolose Per impedire Accesso al file system O esecuzione di comandi Ci sono anche Delle specie di sandbox Pensate per ambienti multiutenti Insomma Eseguire PHP arbitrario Su una macchina Su un'installazione Ardenizzata Non sempre corrisponde Alla possibilità Di eseguire Comandi arbitrari Sulla macchina A meno Chiaramente Di essere in grado Di exploitare PHP stesso Inoltre L'IBB Offre dei bounty monetari Per le vulnerabilità In PHP Che può essere Un ulteriore incentivo E io l'ho trovato Un ottimo esercizio Per approcciarsi A binari reali Avendo comunque Un background Diverso Parlando un attimo Di com'è composto PHP Per capire Quella che è La superficie D'attacco Riprendendo un attimo Il discorso di prima Quando arriva Una richiesta HTTP A un server E viene richiesta Una risorsa PHP Il server Passa la richiesta Al livello Delle server API Di PHP Che è l'interfaccia Che stabilisce Come avviene Lo scambio Di informazioni Tra l'ambiente Del web server E quello Di PHP Dopodiché Viene recuperata La risorsa Richiesta Dal file system Ad esempio Lo script Index.php Diciamo Che viene passato Tramite Il lexer O il parser Di PHP Che estrae I token Del linguaggio E genera Una sorta Di Passa Tramite Lo zen compiler Che genera Un set Di OP code Di Genera Del bytecode Che viene poi Eseguito Effettivamente Dall'executor Quindi Questo qui È l'iter Che comporta Una richiesta HTTP Ad un web server Su cui gira PHP Adesso In base A quello che è Poi il codice Specifico Dello script In questo caso Index.php Possono essere coinvolti In questo procedimento Altre Parti Di PHP Nel senso Che sotto Questo livello Dell'engine Di Zend Ci sono Delle API Che vengono Messe a disposizione A tutte Le altre Parti Del linguaggio Per gestire Operazioni Quali Allocazioni Della memoria Dinamica Oppure Parsing Dei parametri Gestione Dei parametri E questa tipologia Di operazioni Ci sono Delle funzioni Core Che vengono Implementate In PHP Come ad esempio La manipolazione Degli array O questa tipologia Di cose E ci sono Inoltre i moduli Con cui viene Compilato PHP Che sono Le tecnologie Supportate Da una determinata Installazione Possono essere Ad esempio Il supporto Ad un engine Di database Particolare MySQL Postgres O a una tecnologia Come XML XSLT E così via Quindi questo È un po' Tutto quello Che compone La superficie D'attacco Che ci può Interessare Come accennato Prima Essendoci Il fatto Che PHP Può essere Ardenizzato Esistono anche Scenari Di exploitation Locale Nel senso Che un attaccante Che già Ha la possibilità Di eseguire PHP arbitrario Può essere interessato A fare di più Ovviamente Tutto ciò Che è raggiungibile Da remoto In termini Di superficie D'attacco È raggiungibile Da locale Nel senso Che tutto il processo Di una richiesta Remota Può essere Simulato da locale Si possono stimolare Tutti i pathway Questo non è vero Da remoto Ad esempio Se un attaccante Volesse Colpire Il Lexer Di PHP Quindi volesse Attaccare Il processo Di parsing Di uno script PHP Potrebbe ad esempio Generare Degli script Malformati Per In maniera Da rompere Quella logica Questa è chiaramente Un'operazione Non Raggiungibile Da remoto Mentre Il resto Della superficie Abbiamo Le server API Di cui abbiamo Già discusso Abbiamo Le classi Built-in Di PHP 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 Della versione 5 Supporta Il paradigma Ad oggetti E Siccome Una classe In PHP È qualcosa Di estremamente Pesante In memoria Una classe Definita Dall'utente Viene in realtà Parsata Ad ogni richiesta E scartata Alla fine Della richiesta Perché Lo scope Di vita Della memoria Di PHP È quasi sempre Limitato Al processo Esistono Delle classi Built-in Di PHP Cioè Delle classi Degli oggetti Che esistono A livello PHP Ma che sono Il cui codice Sorgente Si trova Direttamente Nell'interprete Queste classi Sono Questa superficie D'attacco È raggiungibile Da remoto Nel caso Della serializzazione PHP Offre un meccanismo Di serializzazione Abbastanza complesso Che supporta Tipi complessi E permette Di serializzare Appunto Oggetti Array Interi Qualsiasi tipo Che esista A livello PHP È serializzabile E in una stringa Serializzabile È possibile Specificare Sia il tipo Che il valore Dell'oggetto Serializzato Quindi Queste classi Che esistono In PHP Sono Stimolabili Da remoto Passando Degli oggetti Serializzati Da remoto Di quelle classi Ci sono poi Tutte le funzioni Di PHP Ovvero Tutte le funzioni Che lavorano Su input Utente Sono raggiungibili Chiaramente Da remoto E ci sono Le estensioni Nel senso che Chiunque può sviluppare Un'estensione Esistono estensioni Sviluppate Mantenute Da terze parti Che possono essere Inclusi in PHP Adesso Vedremo Vedremo un po' Le tipologie Di vulnerabilità PHP è scritto In C E quindi Tutte le vulnerabilità Che si trovano Tipicamente In un binario Si applicano A questo contesto Partendo dalle Stack Corruption In realtà Non c'è niente Di particolare In PHP Nel senso che Si trovano E si continuano A trovare Vulnerabilità Abbastanza Banali Classiche Di stack Overflow Sia Senza Nessun contesto Particolare Che è basato Su operazioni Aritmetiche Quindi Overflow Aritmetici O problemi Di segno Possiamo vedere Un esempio Con questo CVE Di quest'anno Di gennaio Questa vulnerabilità Era situata Nel parsing Degli archivi Nell'estrazione Degli archivi Tar E far In PHP E Possiamo vedere Che La struttura Che descrive Gli header Di un archivio Dichiarava Un link name Dimensionato Come buffer Di grandezza 100 E Durante il parsing Di un archivio Quindi Un qualcosa Che può arrivare Anche da remoto Se c'è Un'applicazione web Che permette Di caricare Un archivio Il parsing Di Di questo Di questo archivio Leggeva direttamente Dal Dal file stream E Interpretava Quanto letto Come Come Struct Tar header Dove quindi Troviamo Quella dichiarazione Del link name E Dopodiché Veniva riempita Questa Entry Utilizzando Questa Estr Dapp Che non è altro Che un wrapper Dello Zend Messo a disposizione Dal memory manager Di PHP Per la funzione Di string duplication Di quanto Passato Direttamente Dal file buffer E Di fatto Questa funzione Però Non Non garantisce In nessun modo Che quanto letto Sia Null terminato Abbia il terminatore Nullo Quindi di fatto Quando Successivamente Veniva usata La funzionalità Di scrittura Degli headers Veniva effettuata Una string copy In questo campo Link name Effettuando Come Lunghezza Il risultato Di una strlen Su quanto Copiato Che Essendo potenzialmente Non null terminato Risultava In una In una Write out of bound Siccome Il campo Poteva eccedere Tranquillamente I 100 byte Dimensionati In base a Dove si collocasse Il Il primo Null byte Diciamo Nello stream Ovviamente Esistono Mitigation La maggior parte Delle distro Implementa di default Canaries Fortify Eccetera Quindi Possono essere Vulnerabilità Non immediate Da exploitare Non sono neanche Impossibili Nel senso che Specialmente Se consideriamo Gli scenari locali Possono esserci Possono verificarsi Facilmente Condizioni Che favoriscano L'exploiting Da misconfiguration Che permettano Di Lickare Indirizzi Ad altre Vulnerabilità Di tipo Infoleak Inoltre C'è da considerare Il fatto che Anche Esploitando Da remoto L'architettura Di un web server Si basa Sul forking Di un nuovo Processo PHP Ogni volta Che arriva Una richiesta Quindi Ogni Ogni figlio Parziali Parziali Byte 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 L'altra Grossa Categoria Di Vulnerabilità Sono quelle Che Interessano Lo IP Sono probabilmente Le vulnerabilità Più diffuse In PHP Anche perché PHP Utilizza Un Overlay Sopra L'allocatore Di sistema C'è Lo Zend Memory Manager Che è Un Allocatore Custom Pensato Per ottimizzare Le allocazioni Di memoria Dinamica In PHP E Una delle Motivazioni Per cui Queste Vulnerabilità Sono così Diffuse A mio Parere È il Fatto Che Essendo Comunque Un software Open source Mantenuto Da Tanta Gente Non c'è Una vera Non ci sono Delle vere Proprie Convenzioni Spesso Anche Banalmente Sull Sull'utilizzo Dei Segni Sull'utilizzo Dei Tipi Di Variabili Ci sono Spesso Problematiche Di segno Derivanti Dall'inconsistenza Tra funzioni Che comunicano Dove Magari Una Una funzione Si aspetta Interi Con segno E li riceve Senza segno E così via E inoltre Il meccanismo Così complesso Di serializzazione Il supporto Di tipi Complessi Nella serializzazione È qualcosa Che ha causato E che continua A causare Tanti problemi Specialmente Anche nella gestione Delle free E delle Allocazioni Questo è Il memory Manager Di Zend È di default E abilitato È disattivabile Utilizzando Questa variabile D'ambiente Mette a disposizione Queste API Che sono Analoghe Più o meno A qualsiasi Allocatore Di memoria Classico Sono in realtà Dei wrapper Che poi di fatto Rimandano All'allocatore Sottostante La memoria Lo IP In PHP È diviso In segmenti A dimensione Fissa Che è stabilita Compile time Di default Sono 256k E Ogni Diciamo che Ogni Allocazione Si traduce Nell'allocazione Di segmenti Di questa dimensione Fissa Da parte Dell'allocatore Sottostante Mentre L'allocatore Di Zend Rilascia Delle parti Di questi segmenti Sotto forma Di blocchi Questo è La struct Che descrive Lo IP In PHP C'è appunto Una lista Di segmenti Ci sono Varie liste Che tengono Traccia Dei blocchi C'è una cache Ci sono I free buckets E i large free buckets Perché In base Alla Una delle discriminanti Sull'allocazione È la dimensione Del blocco Allocato Vengono distinte Le allocazioni Grandi Da quelle piccole Con un certo limite E questi Sono i blocchi C'è una struct Che descrive I blocchi liberi Che è una lista Doppiamente linkata C'è un riferimento Al blocco Precedente Successivo E mentre Questa qui È la lista Che descrive Un blocco È la struct Che descrive Un blocco Allocato E come metadati Vediamo principalmente Il size È un riferimento Al precedente Queste liste La cache La free list La large free list Sono appunto Delle liste Dove Ogni elemento È a sua volta Una lista Di blocchi Doppiamente linkati La discriminante Come accennavo prima È la dimensione Nel senso che Quando viene richiesta Una nuova allocazione All'allocatore Di Zend E questo viene fatto Passando la dimensione Desiderata Viene calcolata Prima la dimensione Effettiva Tenendo conto Dell'allineamento E di altre cose Dopodiché La prima cosa Che viene fatta È controllare Se Viene calcolato Un indice Con la dimensione Calcolata Che corrisponde Appunto A quale cella Della prima lista Andremo a prendere E viene controllato Se A quell'indice Corrisponde Una entry valida Nella cache Per prima cosa Altrimenti Si passa In base Alla dimensione Alla Small Alla Large free list Free bucket O alla free bucket Quindi Ogni elemento Di questa lista Rappresenta Un blocco Di memoria Principalmente Ricapitolando Un attimo Per quanto riguarda Le vulnerabilità Che hanno a che fare Con lo IP Di PHP Sono spesso Exploitabili E Ovviamente Le tecniche Specifiche Dipendono molto Dal layout Dello IP Al momento Del Raggiungimento Della condizione Di vulnerabilità Ci sono Un po' Di cose Di cui è possibile Tenere conto La cache Come dicevo Prima È La fonte Preferenziale Per una nuova Allocazione Ovvero La cache Quando un blocco Viene liberato La cache Viene riempita Con i blocchi Liberati Che hanno Quindi La precedenza Sul Riutilizzo Nelle Allocazioni Successive Di dimensioni Compatibili Questo Può essere Utile Quando Quando Si viene Ad exploitare Delle condizioni Di use After free Perché Sappiamo Che comunque Il layout E la sequenza Delle Allocazioni È in qualche Modo Deterministica Siamo in grado Di prevedere Quale area Verrà Riutilizzata E questo Soprattutto Perché È molto Facile Effettuare Delle allocazioni Arbitrarie Infatti Anche da remoto Inviando Una richiesta Post Una variabile Via post È possibile Sempre Triggerare Un'allocazione Sullo IP Di una dimensione Più o meno Controllata Ad esempio Inviando Una stringa Larga Tot Sappiamo Che avverrà Un'allocazione Sullo IP Necessaria A contenere Il numero Di caratteri Che compongono La nostra Variabile Inoltre Allocazioni Della stessa Dimensione Consecutive Solitamente Occupano Regioni Di spazio Contigue Nella Memoria Nello IP Quindi Il layout Dello IP È influenzabile È abbastanza Predicibile E quindi È abbastanza Comune Riuscire Ad esploitare Problematiche Sia Di Corruption Dei Metadati Che Di Use After Free O Puntatori Trashed E Questa Tipologia Di Problematiche La Radice Di Questo Tipo Di Vulnerabilità Solitamente In maniera Abbastanza Comune Si trova A seguito Di Allocazioni Sbagliate Per Problematiche Aritmetiche O Disegno Quindi Quando viene Allocata Una Regione Di Memoria Nello IP Che Non È Sufficiente A Contenere Il Dato Che Gli Stiamo Copiando Dentro Si Ha Di Conseguenza Una Corruption Dei Metadati Che Compongono Le Strutture Di Come Abbiamo Parlato Prima Nello IP Quando Si Incontrano Variabili Non Inizializzate E Come Abbiamo Visto Prima Sappiamo Che È Possibile Fare Facilmente Ipspraying Anche Da Remoto Utilizzando Le Richieste Post Comunque Le Richieste HTTP E Quindi È Facile Che Si Riesca Ad Ottenere Il Controllo Su Determinate Aree Di Memoria Inoltre Problematiche Legate A Reference Counting PHP Principalmente Lavora Passando Tutti I Valori Tutti Tutte Le Variabili Per Valore Quindi Il Paradigma Di PHP Implica Che Ogni Volta Che Si Utilizza Una Variabile In realtà In Memoria Venga Copiata Venga Effettuata Una Copia Della Struttura Dati In realtà Questo Adesso È limitato A quando Si accede In Scrittura Ad Una Variabile Mentre Quando Viene Semplicemente Referenziata Una Variabile È Stato Inserito Un Meccanismo Di Ad Una Variabile Nello Scope Di Vita Di Una Richiesta Quando Questo Contatore Arriva A zero Vuol dire Che Nessuno Sta più Utilizzando Quella Variabile Ed È Possibile Effettuare La Free Di Quella Variabile Questo È Un Meccanismo Che Chiaramente Porta Delle Problematiche Nel Momento In Cui Le API Messe A disposizione Sempre Dal Memory Manager Di Zend Non Vengono Utilizzate Correttamente Esistono Delle Funzioni Che Si Occupano In Maniera Corretta Di Tutto Ciò Che Riguarda Il Reference Counting Ad Esempio Ogni Volta Che Viene Decrementato Il Reference Count Di Una Variabile Andrebbe Controllato Che Non Arrivi A Zero E Che Quindi Deba Essere Liberato Ma Esistono Anche API Non Pensate Per Essere Utilizzate Direttamente Che Invece Vengono Utilizzate E Portano Ad Errori Di Questo Tipo Infine Ci Sono Le Interruption Vulnerabilities Che Sono Una Classe Di Vulnerabilità Specifica Di PHP In realtà Sono State Se Ne Ha Iniziato A Parlare Attorno Al 2008 In Un Talk Di Stefan Esser E In realtà Queste Riguardano Le Casistiche In Cui Il PHP Supporta Anche I Reference Cioè Delle Variabili Il Meccanismo Di Copia Ogni Volta Che Viene Passata Una Variabile Può Essere Forzatamente Bloccato Nel Senso Che Si Può Definire Una Variabile Come Reference Esistono Vari Pezzi Del Codice Che Fanno Assunzioni Che Una Determinata Variabile Non Venga Modificata Dopo Un Certo Punto Del Dell' E Non Tengono Conto Esercizioni Di Questo Flusso Da Parte Di Codice In User Space Questa Problematica È Limitata A Scenari Locali Per 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 Un Esempio Un Po' Più Concreto Può Sorgere Quando Durante L'esecuzione Di Una Parte Di Codice Viene Lanciata Un'eccezione L'eccezione È Qualcosa Che Può Essere Intercettata Da Un Handler In User Space E Se Il Codice Stava Lavorando Su Una Variabile Per Reference E Non Si Aspetta Assume Che Non Sia Possibile Che Quella Venga Excezione Potrebbe Modificare Quella Variabile E Generare Condizioni Inattese Che Portano Ad Altre Problematiche Potrebbe Effettuare La Free Di Quella Variabile Portando A Use After Free E Così Via Un'altra Parte Una Classe Di Vulnerabilità Molto Presente In PHP Sono Le Type Confusion Questa Classe Figlia Del Fatto Che Internamente Qualsiasi Variabile Che esiste A PHP Level Internamente È uno Zval Quella Struct Lì Quindi In PHP Scrivendo Codice PHP Dichiarando Un intero Dichiarando Una stringa O Dichiarando Un oggetto In realtà Poi a basso Livello In memoria Stiamo Riempiendo Degli Zval Questo Zval Ha Principalmente Il campo RefCount Di cui abbiamo parlato Brevemente Prima Il campo Type Che definisce Quindi il tipo Di questo Zval Quindi Un intero Una stringa Un oggetto Un array E così via E il campo Value Il campo Value È una Union E questi Sono I possibili Valori Che può Assumere Lval È utilizzato Per rappresentare Variabili Di tipo Intero Quindi Dichiarare In PHP La variabile Intero 1 2 3 4 Porta Ad uno Zval Che ha Come type 1 Che sta Per gli interi E ha Lval Val Valorizzato A 1 2 3 4 Cioè Il valore Effettivo Della variabile Ogni Ogni campo È utilizzato In maniera Esclusiva Per una Tipologia Di variabile Quindi Lval Dval Per i numerici Questa Struct Per le stringhe Questa Hash Table Per gli array E questo campo Obge Per gli oggetti Il problema Qui è che Essendo appunto Una union In realtà In memoria Questi campi Esistono Sovrapposti Nel senso che La semantica Di quello Che occupa Quest'area Di memoria È stabilita Dal valore Di type E in realtà È meglio Se ce la teniamo qui E Quindi ad esempio Il fatto che qui Ci sia Il valore 1 2 3 4 Dell'intero O ci sia Un puntatore Ai caratteri Che compongono Una stringa Che è il caso In cui venga Utilizzato La La Struct Str Quindi il caso Di una variabile Stringa Esiste È una distinzione Che esiste Solo a livello Semantico Nel senso che Quei valori Occuperanno La stessa Area di memoria E in base A quello che è Type Nella Struct Zval Avranno Un significato Diverso Che in un caso È un puntatore E in un caso È un intero Adesso Le problematiche Nascono dal fatto Che esistono Varie macro All'interno Del codice DPHP Che sono fatte Per lavorare Sotto Un'assunzione Di tipo Quindi Esiste La macro Per accedere Ad uno Zval Stringa Quindi Il controllo Che quello Zval Si astringa È delegato Al codice Che utilizza Quella macro Ad esempio La famiglia Di macro In questione È la Zstr Val Che non fa Altro che Dereferenziare Il puntatore In quanto Si aspetta Che qui Str Sia un puntatore Ai caratteri Effettivi Della stringa Al contrario La famiglia Zlval Si aspetta Che il valore Contenuto In quello Stesso Punto Sia Effettivamente Il valore Numerico Di un Intero Quindi In un Caso Avremo 1 2 3 4 In un Caso Avremo L'indirizzo Di memoria Che contiene I caratteri Della stringa Dunque Le type confusion Nascono Dall'utilizzo Erroneo Di queste macro Ovvero Utilizzare Una di queste macro Su uno Zlval Di tipo Diverso Qui c'è Un breve Riassunto Molto Riassunto Delle Primitive Che tipicamente Possono nascere Da questi errori E abbiamo Che Ad esempio Accedere Ad uno Zlval Di tipo Numerico Con la macro Strval Porta All'abilità Di leggere Memoria Arbitraria Questo perché Uno Zlval Di tipo Numerico Si aspetta Cosa ho detto Ok Uno Zlval Di tipo Numerico Si aspetta Che qui Ci sia Effettivamente Il valore Di Del numero Nel caso Dell'intero 1 2 3 4 Si aspetta Di leggere 1 2 3 4 Mentre La stringa Si aspetta Di dereferenziare Un puntatore Quindi Se noi Accedessimo Lo zval Che rappresenta 1 2 3 4 Utilizzando La Famiglia strval Tenteremmo Di dereferenziare 1 2 3 4 Per andare A recuperare Il contenuto Della stringa Quindi Avremo La possibilità Di leggere Un contenuto Di memoria Ad un indirizzo Arbitrario Allo stesso modo Altre Famiglie Di macro Su Sval Di tipi diversi Possono portare Anche a A leak Di indirizzi Nello heap E addirittura Code execution Code execution Perché in caso Di strutture Dati In caso Di tipi Più complessi Come array E oggetti Le strutture Dati Contengono Dei puntatori A funzione In particolare Un oggetto Contiene diversi Handler Che rappresentano Tutte le operazioni Che l'oggetto È in grado Di fare I vari metodi E contengono Un distruttore Quindi una funzione Che si occupa Di distruggere L'elemento Quando viene Effettuata La free Dove Quali sono I sync In cui Si trovano Tipicamente Questo tipo Di vulnerabilità Nelle chiamate Zend Parse Parameters Questa è L'API Utilizzata Per Elaborare Parametri Che arrivano Da user space A una funzione PHP In particolare Utilizza Delle sorta Di formattatori Per capire Che tipologia Di parametri Aspettarsi Nel caso Della Z Si dice Genericamente Che il parametro Che arriva È uno Zval Quindi Qualsiasi Controllo Sulla tipologia Di questo Zval È delegato Alla funzione Che utilizza Questa chiamata Sesso discorso Per la O Minuscola Che rappresenta Un oggetto Di una classe Qualsiasi Non è proprio La stessa cosa Nel senso Che qui Quello che può Succedere Assumere Una determinata Classe Riceverne Un'altra Ma le problematiche Che possono Verificarsi Sono più o meno Simili Inoltre Qualsiasi Assunzione Sul tipo Sui tipi In contesti Di deserializzazione Porta potenzialmente A type confusion Questo perché Come ho accennato Prima La sintassi Di serializzazione Di PHP Permette di specificare Sia un valore Che il tipo Di quel valore Quindi permette Di dire Che L'elemento Che sta essendo Deserializzato Ha il valore Pippo Ed è di tipo Stringa O è di tipo Array E quindi Utilizzare macro Che lavorano Su un'assunzione Di tipo Direttamente In contesti Di deserializzazione Porta a queste Problematiche Assunzioni Di tipo Anche in contesti Delle server API Nel senso Che In PHP I dati Che arrivano Da Get Post Cookie Non sono Necessariamente String Ma possono Essere Array Se avete mai visto La sintassi Con le quadre Alla fine Del nome Di una variabile E ancora Interruption Vulnerabilities Sempre limitate Al contesto Locale Per lo stesso Motivo Descritto Prima Format String In realtà Sono venute Fuori Negli ultimi Anni Di nuovo Di recente E Con l'introduzione Di PHP 7 Perché gran parte Del codice È stato Abbastanza Riscritto E ci sono Tante funzioni Che vrappano Funzioni Che utilizzano Formattatori In maniera Non sempre Trasparentissima E La particolarità Delle format String In PHP Riguarda L'exploitation Che è molto Comoda È molto Semplificata Dal fatto che PHP Introduce Il formattatore Z Che indica Appunto Uno Zval La struttura Dati Di cui Abbiamo Parlato Fino Adesso E Come Potete Vedere In caso Del formattatore Z Viene assunto Che Quello Che Stiamo Trattando Rappresenti Uno Zval Dopodiché Viene Utilizzato Fondamentalmente Come Stringa Cioè Parte La procedura Di casting A stringa Per printare Il valore Dello Zval Questo codice In realtà Non è pensato Per essere raggiungibile Da funzione Utente Nel senso Che È parte Di una funzionalità Puramente Di debugging Però In caso Di format String È comunque Diventa Comunque Raggiungibile E il fatto Di Proprio Per il discorso Che facevamo Prima Del fatto Che Zval Che rappresentino Tipi complessi Comunque Portano All'interno Vari puntatori A funzione Controllare Avere La possibilità Come in questo Caso Di controllare La rappresentazione In memoria Di uno Zval Equivale Solitamente Sia la possibilità Di eseguire Codice Sia la possibilità Di Liccare Che di Leggere Memorie Arbitrarie Per finire Tutti i bug Chiaramente Che non rientrano In queste Famiglie In queste Categorie Sono i bug Logici O di design E ce ne Sono stati Ce ne sono E spaziano Dal bypass Di filtri O di Procedure Necessarie Per verificare Cose E fino ad arrivare Anche a scenari Più complessi Chiaramente Cercare Questo tipo Di vulnerabilità Richiede Una particolare Conoscenza E comprensione Del contesto Su cui stiamo Lavorando Quindi PHP Perché è necessario Sapere Che cosa Si aspetta L'interprete Quali sono Le assunzioni Dietro Determinati Comportamenti Nel codice Il pro Di queste Vulnerabilità Chiaramente È che Non essendo Legate A problematiche Di memoria Sono solitamente Molto Reliable Un piccolo Esempio L'ho Utilizzato Nella Nell'exploiting Della Vulnerabilità Che vi farò Vedere Dopo Riguarda Il contesto È sempre Di Deserializzazione Come vi ho accennato La possibilità Di serializzare Tipi complessi Come oggetti Porta Al fatto Che si possano Toccare Path di codice Appartenente Alle classi Built-in Di PHP Quindi In questo caso L'esempio È la classe Exception Di PHP Che rappresenta Un'eccezione A livello PHP È possibile Toccare Quel codice Fornendo Ad un Unserialize La rappresentazione Serializzata Di un oggetto Exception Quindi Nella stringa Serializzata Io dico Il valore è questo Il tipo è Exception Un'eccezione Se avete presente Una classica Eccezione È Un oggetto Che vuole rappresentare Uno stack trace Quindi ha Una funzione Una riga di codice E una serie Impilata Di queste informazioni A livello di oggetto Questo si traduceva Con il campo Previous Che poteva contenere Un riferimento All'eccezione Precedente Nello stack trace Quello che ha utilizzato La vulnerabilità Logica Qui è che In contesto Di Unserializzazione Veniva controllato Semplicemente Che il campo Previous Fosse di tipo Object Non veniva controllato Effettivamente Di che classe Fosse Quindi l'unico controllo Di tipo Che veniva fatto È che fosse un oggetto Quello che ha utilizzato Per exploitare Questo comportamento Era fornire Un oggetto Di un altro tipo Questo perché Perché più avanti Nel codice Assumendo che L'oggetto Tirato fuori Da previous Fosse un'eccezione Veniva chiamato Il metodo Get trace as string Che è un metodo Che esiste Nella classe Exception Non esiste Chiaramente In altre classi Il fatto di chiamare Un metodo Non esistente Su un oggetto In php Genera la chiamata Di un altro metodo Che è fatto apposta Per gestire Questa casistica Che è il metodo Il magic methods Doppio underscore Call Quindi di fatto Utilizzavo Questo errore logico Questa svista Per generare una chiamata A un metodo Call Di un oggetto Arbitrario E questo mi serviva Perché la vulnerabilità Che poi utilizzavo Era proprio Nel metodo Call Di un oggetto Di un'altra classe Che altrimenti Non sarei riuscito A raggiungere In questo modo Qui c'è una piccola Anticipazione PHP 7 Ha introdotto La feature Allowed classes In un serialize Che permette Di specificare Una white list Di classi Deserializzabili Quindi Tornando all'esempio Di prima Se nella white list Venisse specificato Che io voglio Deserializzare Solo oggetti Della classe Pippo Il fatto di ricevere In input Un oggetto Di tipo Exception Sarebbe stato bloccato In realtà C'è una vulnerabilità Logica Che permette Di bypassare Completamente Questo Questo meccanismo Sotto certe circostanze Non Non è ancora Stata peccata Quindi Non dirò di più Ma Potete provare A guardare il codice Perché Comunque È una cosa Divertente Il Un piccolo esempio Che volevo farvi vedere È In realtà Una type confusion Che era presente In php Su tutti i rami Fino a quelle versioni E si trovava Nella classe Sop client Che è una classe Built in Quindi il contesto È sempre quello Di Unserializzazione Smf È un forum Scritto in php Che offriva La possibilità Di Deserializzare Una stringa Fornita in input Controllata da un utente Quindi un utente Poteva fornire Una stringa Serializzata Questa qui è la sintassi Di serializzazione Che rappresentasse Un oggetto Di tipo Sop client E andare a stimolare Quel path La vulnerabilità Era raggiungibile Dal metodo Call Che In un flow Tipico di Unserializzazione Non viene chiamato Ma in realtà Riuscivo a stimolarlo Per il fat Per il La vulnerabilità Che vi ho fatto vedere Prima E questo qui Era il Il codice In questione Come potete vedere Dal Beh Questa parte Parsava L'oggetto Ricostruito A seguito Alla serializzazione E accedeva Al campo Data Che Dove essere Un array Recuperava Il contenuto Del campo Data Lo metteva Nella variabile TMP Che è Uno Zval La variabile TMP Viene dopo Acceduta Dalla Dalla macro STRval Che è quella Utilizzata Sugli Zval Di tipo Stringa Senza nessun controllo Di tipo Non c'è nessun Nessuna certezza Che TMP Contenga uno Zval Di tipo Stringa Quindi Facendo in modo Di Avere uno Zval Di tipo Intero Dentro TMP Per il discorso Che abbiamo fatto Prima Di fatto Era possibile Recuperare Il contenuto Di un'area Di memoria Arbitraria Corrispondente All'indirizzo Dato dal valore Numerico Dell'intero Cioè Facendo finire Qui dentro Lo Zval Intero 1234 Avrei avuto In TMP Il contenuto Della locazione Di memoria 1234 Questo contenuto Veniva poi Utilizzato In una String compare Dove In realtà Anche il primo Il valore Del primo argomento Era controllato Dall'utente Infine C'era un modo Per avere Un feedback Sul risultato Di questa String compare Quindi Quello che Ho poi fatto È stato Avendo Il controllo Della string compare Da un lato Sul valore Del primo argomento Dall'altro Sull'indirizzo Di memoria Del secondo Ho utilizzato Questo Questo feedback Come side channel Per Ricavare Un byte Alla volta Il contenuto Di un'area Di memoria Arbitraria Puntata Dal mio indirizzo Dall'indirizzo Del mio intero E qui Esatto Beh qui C'è Una piccola demo Se volete Posso farvi vedere Ma È Semplicemente Uno script Che implementa Quanto Appena detto E Inoltre Non so Come farlo Partire Da questo Ah no Perché Giustamente Questo è Foxit Non è PowerPoint Quindi è un PDF E quindi c'è solo Un'immagine Beh Niente Mi spiace Ma comunque Erano giusto Pochi secondi Di terminale Scritte Niente di interessante E quindi è tutto Grazie Se ci sono domande Sì Come mai è stato rimosso Il safe mode Ok In realtà Da un lato Comunque Il team Di PHP Non l'ha mai considerata Una vera e propria misura Di sicurezza Nel senso che Anche tutto ciò Che erano le problematiche Relative a safe mode Perché c'erano problematiche Ci sono stati vari modi Di bypassare safe mode Da parte degli sviluppatori Non sono mai state viste Come problematiche Di sicurezza Quindi La mia idea è che Per Evitare di incoraggiare Un comportamento Degli utenti Ad affidarsi A safe mode Come misura Di sicurezza Abbiano deciso Di rimuoverla Ciao Una domanda Sul L'e-pallocator Di PHP Sì Quando Tu hai detto Che l'e-pallocator Di PHP Sostanzialmente È un wrapper Per L'allocatore di memoria Del librerio di sistema Giusto Ma Questo significa Che quindi Tutto Il discorso Di allocazione Della memoria A sua volta Dipende Anche L'esploitabilità A questo punto Anche di tutte le vulnerabilità Delle memory corruption Sullo IP Può dipendere Dall'allocatore di memoria Che c'è sotto Tipo Se c'è Il libc malloc Piuttosto che PHP gira sotto Windows E quindi gli internals Dello IP La ragionano in maniera diversa Perché di fatto Io penso Il Le libc malloc Il malloc Delle libc Implementa Delle protezioni Soprattutto sugli after free Che sono abbastanza toste E quindi mi chiedevo Se quando lavora La memory corruption A livello di Astrazione Che fa PHP Implica Che poi comunque A livello di Di memoria Nel malloc Delle libc Sia comunque corretto Oppure la corruzione Avviene proprio A livello di allocazione In libc No Le corruzioni Solitamente Si fermano A livello All'overlay Di zend Perché in realtà Non tutte le Allocazioni Vengono Boxate All'allocatore Sottostante Nel senso che Le uniche Allocazioni Che effettua All'allocatore Sottostante Sono quelle Dei segmenti Se a livello PHP Voglio allocare Una dimensione Tot Se c'è già Il segmento Che mi permette Di dare Quello spazio Questa operazione È trasparente All'allocatore Che c'è sotto Nel senso che Si ferma A livello di zend Che dà via Un blocco Quindi tipicamente È lì Che si effettuano Le corruption Quindi nel caso Più becero Dico Di uno Hip overflow Dove io posso Corrompere una chunk Comunque Libc malloc Quando viene fatto Un free Lo passo il controllo Per cui lui verifica L'integrità Della chunk In realtà Fatto un free A che Cioè Sul Sulla libc O sul php Cioè se io Corrompo l'allocazione Sul php E poi faccio Un free E la chunk A livello di php Non è valida Non è valida Neanche a livello Di libc E quindi Le libc malloc Triggera Un fault E va in abort Oppure no No perché Cioè a livello Di libc C'è allocato Il segmento Ah ok Ok Grazie Scusa Non avevo capito No no Beh Anzi Mi fa piacere Aver ricevuto Una domanda Specifica A posto Grazie mille No 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 no